Potete dare una differenza di come il mercato italiano è percebito da investitori esterni? Quali sono i problemi e i risultati che potete vedere? Assolutamente, sicuramente il mercato italiano è percebito come interessante. È visto come un grande paese nella economia mondiale. Non dimenticare che siamo il numero 8 nel mondo e il numero 3 nella zona euro. Quindi sicuramente c'è molto interesse da investitori internazionali. A volte vedono l'Italia un po' rischio rischio perché delle incertezze politiche e rischio più rischio rischio. Ma c'è molto interesse e credo che perché è percebito come un mercato rischio rischio rischio, è un mercato che può dare migliori rischi e valutazioni più attraverso per investitori. Abbiamo visto molte transazioni nel mondo del motore. Quali sono i settori che ti aspettano la maggior parte del 2014 e 2015? Abbiamo visto molte attività in 2007 in infrastruttura. Questo è guidato dal trend per la privatizzazione e anche da grandi gruppi che necessitano riparare e riparare la valutazione, e che si dispostano dei fondamentali di infrastrutture. Quindi abbiamo continuato a vedere deal in motore, come hai detto, ma anche con l'acqua, la distribuzione di gas, la infrastruttura telecomunicazione. Ci sono sicuramente molto attivi. È l'Italia un mercato per gli italiani o dovrai vedere più giocatori internazionali? Come ho chiamato Fondo Italiano per le infrastrutture, mi piace di pensare che, principalmente, dovrebbe essere per gli italiani. Ma, semplicemente, credo che investire in infrastruttura è più facile per un giocatore, perché hai un'acqua migliore, hai una buona relazione con i regolatori, hai un'acqua migliore ai finanziamenti, la proximità con le firme quando sei in fase di gestione. Ma, sicuramente, abbiamo accettato la competizione e spero che potremo cooperare con alcuni grandi fondi per alcuni dei grandi negozi che credo che vengono al mercato nei prossimi anni. Hai parlato di finanziamenti. È l'Italia competitiva? In quanto riguarda questo? Io continuo a credere che sia. Sicuramente, devi essere realistico perché il fondi del governo ha investito più che nel Reino Unico o in Germania e, quindi, necessariamente, i finanziamenti saranno linkati all'inizio. Ma credo che, per buoni negozi con buone firme e le firme infrastrutture tende a essere percepiti positivamente dai comitetti del Banco. Credo che ci sono buoni finanziamenti sui livelli di finanziamenti a livelli di accettabile. Sì, i margini sono più alti, ma la base rate è più piccola quindi il costo di finanziamenti è ancora più positivo. Grazie mille. Ok, grazie.